Buongiorno, il mio nome è Sara Calloni e faccio parte di un gruppo di più di 10.000 consumatori che si sono uniti per ottenere vari benefici. Beneficio numero uno, poter salvaguardare gratuitamente il nostro pianeta. Beneficio numero due, ricevere tante informazioni utili per quanto riguarda il mondo dell'energia e quindi saper cosa rispondere a tutte quelle offerte che ci vengono fatte che poi si rivedano non proprio vere. Beneficio numero tre, riuscire ad ottenere grandi e veri sconti nelle bollette di casa. Se anche a te piacerebbe aiutare la nostra terra, avere informazioni utili e ottenere degli sconti veri in bolletta, allora ti invito ad entrare nel nostro gruppo. Per poter accedere al gruppo hai due strade davanti. Strada numero uno, fai tutto da solo. Clicca nel link che vedi sotto o sopra a questo video, segui tutte le istruzioni e quando ti viene richiesto inserisci il codice greenproject6649. Oppure se preferisci faccio tutto io, quindi semplicemente commenta questo video o scrivimi in privato e io stessa ti aggiungerò nel nostro gruppo. Ricorda, più siamo e più il nostro pianeta ci ringrazierà, quindi se puoi condividi questo video in modo da far arrivare questa informazione a tante più persone. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata. Ciao!